Con il dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco del centrodestra per il comune di La Terza, abbiamo affrontato vari temi del suo programma, temi che ovviamente argomenti che cercherà di realizzare, augurandosi ovviamente di essere eletto primo cittadino. In questa sede vogliamo parlare di legalità. Lei ritiene la legalità un punto imprescindibile appunto nella conduzione amministrativa di una collettività? La legalità è un punto fermo del nostro programma amministrativo, quindi legalità che sarà portata nei banchi di scuola, a partire dalla scuola media alla scuola di primo grado, secondo grado e terzo grado. Quindi i ragazzi saranno interessati a fare dei corsi, i ragazzi saranno interessati come facevamo noi nei banchi di scuola a studiare la legalità. L'educazione civica. L'educazione civica, la cosiddetta educazione civica che a noi ci insegnavano e che oggi ricordiamo con molto piacere, perché è stata proprio l'educazione civica che ci ha formati e ci ha portati al successo, all'essere rispettati dalla gente, a rispettare la gente, a rispettare le regole e a mandare avanti un sistema pulito, idoneo e capace di ricevere anche altra gente, altre idee, mettendola al proprio agio. Dottor Cefano, una legalità all'interno della città per far sì che il cittadino rispetti le regole e una legalità all'interno della macchina amministrativa comunale? Perfetto. Dicevo l'altro giorno, la legalità è senso di responsabilità, è senso di libertà, è senso di dovere civico e quindi chi si impegnerà per la città di La Terza, essendo una persona libera di agire e conoscendo le leggi e rispettandole, la terza, a mio parere, avrà un grande successo e ritornerà uno dei primi paesi nella provincia di Taranto.